Beh, può capitare di avere una tosse secca, molto fastidiosa, una tosse irritativa, che magari persiste e non smette mai, magari da giorni, da settimane o da mesi. Vediamo insieme di che cosa potrebbe trattarsi. La tosse che non smette mai, specie quando è particolarmente fastidiosa, perché non ci dà tregua, secca, una tosse senza catarro, una tosse irritativa, è uno dei peggiori sintomi che rischiamo di avere. Ci disturba qualsiasi cosa facciamo e giustamente dopo un po' ci preoccupa, anche perché magari abbiamo difficoltà a individuarne la causa. La tosse corrisponde fondamentalmente ad un meccanismo protettivo con il quale ci viene segnalata la presenza di un corpo estraneo nelle vie aeree. Il corpo estraneo che deve essere rapidamente espulso pena l'ostruzione delle vie aeree e ovviamente la conseguente difficoltà a respirare. La tosse secca si presenta senza secrezioni catarrali che l'accompagnino. Ha generalmente una natura fortemente irritativa, stizzosa e viene spesso descritta dai pazienti anche con espressioni curiose, come una piuma in gola che mi fa tossire oppure un capello che mi stuzzica la vola e che non va nessuna giù. Quali sono le possibili cause di una tosse secca? Si può dire che praticamente tutte le situazioni infiammatorie, microbiche, specie quelle virali, cioè dovute a virus delle vie aeree, inizialmente prima che la tosse divenga produttiva, cioè che si accompagni alla presenza di catarro, possono presentare una tosse secca, quindi faringiti, laringiti, tracheiti e bronchiti, ma anche una polmonite, una polmonite acuta nel bimbo piccolo. I virus responsabili sono spesso gli adenovirus, il virus respiratorio sinciziale, i rinovirus sono i virus del raffreddore, ma anche gli stessi virus influenzali, anche perché no il SARS-CoV-2 del Covid, i virus parainfluenzali. I virus tendono, a differenza dei batteri, a crescere all'interno delle cellule che infettano e a ucciderle, quando il virus abbandona le cellule infettate, lascia una grande quantità di cellule morte, tra le quali quelle del rivestimento epiteliale delle mucose respiratorie, l'epitelio è una sorta, una specie di rivestimento protettivo delle vie aeree e ogni volta che un virus colpisce le vie aeree, le cellule epiteliali che muoiono, pelano letteralmente le vie aeree che perdono quindi in questo modo il loro rivestimento protettivo. Peccato che al di sotto di questa specie di guaina, di pellicola protettiva, ci siano proprio i recettori di tosse, cioè degli organelli che se stimolati provocano la tosse. Se io tolgo lo strato cellulare che riveste questa pellicola protettiva, questi diventano ovviamente molto più sensibili e quindi basta poco per attivarli. È chiaro, i recettori di tosse scoperti senza lo strato protettivo vengono più facilmente stimolati a produrre tosse da una infinità di stimoli, aria fredda, aria calda, secca, umida, polvere, odori, profumi e sostanze irritanti, ad esempio fumi, vapori, insomma ogni sostanza inalata rischia in fondo di stimolare i recettori di tosse e di scatenare crisi di tosse secca e questo può durare anche per settimane o per mesi nei casi peggiori, almeno fino a quando ovviamente non si venga a ripristinare lo strato protettivo di cellule che è andato perso e non si ricreino le condizioni di normalità dei tessuti infiammati riportandoli a prima dell'infezione. Ma anche solo un respiro profondo stimolando meccanicamente con l'allungamento delle vie aeree i recettori tussigeni può qualche volta scatenare la tosse secca. La pertosse invece, di solito inizia invece con una tosse accompagnata da catarro e poi solo dopo si trasforma in una tosse secca che sembra non passare mai, qualche volta una tosse secca, stizzosa e persistente ad esempio potrebbe essere provocata da una qualche sensibilizzazione allergica, malattia allergica delle vie aeree, laringita allergica, tracheite e bronchita allergica, ai pollini, alle forfore degli animali domestici, cane, gatto in modo particolare, alle muffe della casa e delle case umide, agli acari della polvere, con o senza asma bronchiale, certo perché una delle più comuni cause di tosse secca e persistente è proprio l'asma bronchiale, anche senza i classici sibili espiratori, prima che l'asma intendo si presenti con tutti i suoi sintomi caratteristici, anche solo una tosse persistente potrebbe essere proprio il primo sintomo con il quale l'asma si annuncia, da non dimenticare mai questo, è importante, può rappresentare proprio quella iperreattività bronchiale a specifica che si accompagna caratteristicamente agli stati asmatici, prima che l'asma esploda in modo completo. Ci sono poi delle tossi secche che sono dovute invece all'innalazione continua di sostanze irritanti ad esempio da esposizione professionale o allergizzanti da esposizione professionale, sostanze presenti negli ambienti di lavoro, queste sono quelle situazioni nelle quali spesso il disturbo, la tosse tende a ridursi o a scomparire addirittura caratteristicamente durante il weekend, d'accordo? O in ogni caso ogni qualvolta che ci si allontani dal luogo di lavoro per qualche giorno. Attenzione che qualche volta invece una tosse secca che persista nel tempo, anche molto fastidiosa e stizzosa, magari autodiagnosticata erroneamente come tosse da virus o come tosse nervosa, può essere provocata dalla presenza di una malattia dei linfonodi del torace, magari per la presenza di manifestazioni toraciche di una malattia ematologica e linfonodale, alcuni linfomi del torace ad esempio possono presentare anche molto precocemente una tosse secca e persistente, apparentemente senza causa, quindi evitare sempre di farsi la diagnosi da soli, se possibile quando la tosse dura da un po' di tempo, non è mai prudente, ma anche altre situazioni cliniche non meno pericolose, specie se individuate in ritardo, possono provocare una tosse secca, ad esempio molti tumori bronchiali e polmonari, tosse che persiste secca, stizzosa, magari proprio anche in un fumatore, poi faccio una radiografia del torace e scopro magari una macchia come si dice, una macchia sulla radiografia, che può qualche volta essere espressione purtroppo proprio della presenza di un tumore del polmone. Ma ancora tosse secca, magari che dura da qualche settimana, qualche volta anche una fibrosi polmonare inizia proprio così, la fibrosi polmonare è una malattia molto seria di nuovo, da non trascurare e da affrontare il più precocemente possibile come specialista, anche un versamento pleurico, la presenza di liquido che si accumula nel cavo pleurico tra polmone e parete toracica, lì non dovrebbe esserci del liquido, può provocare una tossettina che persiste e non si risolve, indipendentemente dalla causa che lo provoca, scompenso del cuore, infiammazione benigna della pleura, la cosiddetta pleurite o anche da parte di un tumore della pleura del polmone, specie negli esposti all'amianto. Anche un versamento pericardico, la pericardite con versamento pericardico, cioè l'infiammazione del foglietto sottile di tessuto che riveste il cuore, la pericardite dicevo può provocare una tossetta fastidiosa e da individuare perché se no fa danni, moltissime situazioni di scompenso cardiaco ad esempio possono provocare una tosse secca, una tosse secca che non passa, specie a comparsa notturna quando sono coricato, magari con la necessità di mettersi seduti perché da coricati non si riesce a respirare. Anche un reflusso gastroesofaseo può provocare una tosse fastidiosa, spesso proprio a comparsa notturna, anche questa fa la differenza rispetto a quella di prima, ma ci sono anche dei farmaci che possono provocare la tosse, alcuni farmaci possono dare delle crisi di tosse molto intense come ad esempio gli acidi inibitori, sono farmaci impiegati nel trattamento dell'ipertensione, della pressione arteriosa alta e questa tosse non si risolve fin tanto che non scopro la causa e non cambio i farmaci. Poi ci sono le cause un po' meno comuni di una tosse secca, per non dire rare, ma non per questo la tosse è meno fastidiosa, anzi sono quelle più difficili da individuare. La tosse nervosa, la tosse cosiddetta psicogena, magari in persone con problemi emotivi e ansiosi non risolti che possono peggiorare in presenza di condizioni di particolare stress. Qualche volta invece è proprio il sistema dell'antifurto che va in tilt, e già come capita per l'antifurto ad esempio che suona senza che ci sia mirata in casa, il sistema si attiva e rileva la presenza di un intruso che di fatto non c'è, ma la sirena suona lo stesso e dà molto fastidio, è la tosse secca che cerca di espellere tutto il giorno una sensazione di corpo estraneo in gola, in trachea, nei bronchi, che però di fatto non c'è, ma mi fa tossire lo stesso. Tante cause di tosse secca, quindi da individuare con calma, ma soprattutto da affrontare per bene, se si vuole alla fine cercare di avere ragione del problema, magari anche dopo anni di tentativi infruttuosi. E senza avere fretta, il consiglio, senza aver fretta di etichettare la propria tosse secca come una tosse nervosa, quando invece magari di nervoso non c'è proprio nulla, tranne proprio il nervoso che mi viene perché non riesco a trovare qual è la causa della mia tosse, una tosse vera, magari organica, fisica, non psicologica, solo perché a quella causa lì magari non ci ho mai pensato.